RISPONDA, RISPONDA, BANITO Clipper e Tigliani L'ANIMA DELLI MORTACCI TU Mi sento bene, sì, mi sento bene Sono tremendamente triste In una maniera incredibile Sto sfiorando Penso, cioè Sto tenendo sotto controllo Attacchi di panico, eccetera Eccetera, eccetera Sono un bel periodo di merda, ma che dobbiamo fare Non Non ci posso fare niente Vabbè, Nicole, ci sta No, Giorgio, non sono d'accordo Che si parli bene o che si parli male Basta che se ne parli Non sono molto d'accordo Dico la verità Invece che la magna della nazione La magnetta dei bannati, ma guarda, Giorgio, mica sarebbe male Non sarebbe male Ma dici, Riccardo, che si risolverà tutto Non lo so Sto giro la vedo brutta, brutta, brutta Ma hanno voluto far fuori Che devo fare? Che devo fare? Sì, sì Purtroppo al led manca Si è bruciato un led qui E si è bruciato un led là Fa niente Cioè, insomma Sti cazzi E che ve ve lo dì Purtroppo sto facendo Secondo me Sempre secondo me Dei bellissimi contenuti Che però purtroppo le persone Per un motivo o per un altro Non si stanno più guardando Eh, lo shitstorm Nei miei confronti è gigante E ci sto soffrendo tantissimo Però, ripeto La gente non gliene Porta niente Cioè, non parlo di voi, eh Che sapete che voi che state in live Non contate niente Già ve l'ho detto più di una volta Sì, giù pure le visualizzazioni Su Clash Royale Non lo so Il cartello ironia sta qua Il cartello ironia sta qua E lo so, Giorgio Tesoro mio Ma non è facile Dico la verità, eh Non è... Non è facile Ti dico la verità Non è proprio facile Per niente Eh... Io capisco Magari che non sto simpatico a tutti Che sono Una... Un ragazzo particolare Però Questo carico di odio È Veramente Tanto grave Secondo me Che poi per roba Che non esiste Quello è Cioè, sai Avessi fatto qualcosa di male Ma non stiamo parlando di niente Però pure parlarne davanti a voi Che cazzo cambia, regà Che cosa cambia, regà Non cambia proprio niente Matteo Lovore Loveri Vabbè ciccio I soldi ce li hai uguali Che te ne frega Sicuramente stai meglio di me Ma non è quello Tesoro mio Non è quello Io ho sempre sperato Che quando Avrei terminato La mia carriera Da youtuber E vi dico La verità Più tardi possibile Ma perché è una cosa Che ci tengo Ve voglio bene Eccetera Eccetera Di essere ricordato Per Per quello che sono Un bravo ragazzo Uno che ha tenuto tantissimo La piattaforma Eccetera Eccetera In questo momento È Completamente Completamente L'opposto Gabriele Maligno Ciao ciccio Ti amo di bene Grazie mille Contraccambio Contraccambio Purtroppo Adesso è Completamente Il contrario Marcolino Stai pensando Di abbandonare O di prendere Una pausa Non lo so Non lo so Ti dico la verità Marcolino Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Perché se è una cosa Che mi fa star male E se è una cosa Che mi fa star male Per chi dovrei Continuare Tutto qua La ponencini Un mese Ciacci Secondo me il segreto È tornare a fare Quello che diverte a te Se tu ti diverti Questa shit Passerà Prima o poi Ma non lo sai Neanche tu Se passerà Perché il primo o poi Che che significa Io già faccio Quello che mi piace Bella chiara Raga non porto Minecraft Dario Perché mio fratello Me lo sta chiedendo Tipo da 4-5 mesi Ma mi sono rotto Il cazzo di Minecraft Cioè è un gioco carino Per carità di Dio Ma poi In questo momento Capirai Eh Wallallallà Porti Minecraft Eh vabbè Perché lo sta portando Steppi Lo sta portando Surry Cioè manca solo quello Raga Ma che cazzo Ma chi Lascia perde Ma lascia sta Non lasciamo Lasciamo perde Eh pigna Guarda lascia perde Ho visto delle cose Su TikTok Abbastanza pietose Ma proprio Se voi andate Nei commenti La gente fa Ma tu lo sai Ho visto un commento Fa ma tu lo sai Che tutto questo è falso E che si fa solo per moda E il creatore del contenuto Fa sì assolutamente Divertentissimo Io Cosa Ok Va bene Matteo Non te devi preoccupare Del donare o non donare Già ve l'ho detto Più di una volta Se state qua con me Vi divertite Commentate a me Va Benissimo Eh Nicole Va bene Facciamo finta Eh Facciamo finta Che fosse vero Quello che dici E probabilmente È vero Però Se io prima facevo 40.000 visualizzazioni Su Clash Royale E sono pochissime Per quanto riguarda me Ma fai finta Che il calo Ci sta Perché oggi Non ho fatto i 10.000 Le altre 30.000 persone Che mi guardavano E non stiamo parlando Dei 120.000 Di poco tempo fa Dove sono? Si sono veramente Fatti tutti Giocare la testa Da questa roba? Eh perché Regà Io lavoro con YouTube Ma Non è tanto Il fattore soldo Che comunque sia importante Ma proprio Vedere Ciao Cromo Eh E proprio Vedere Il calo Generale Non dovuto da me Bella roba lì Danilo no no Ma io li noto I commenti positivi Per l'amor di Dio Per l'amor del cielo Il problema Che però In questo momento Se noi andiamo Sul mio canale YouTube C'è un calo Gigante C'è un calo gigante E regà Io ho programmato Tantissimi bei video Da qui a un poco Tantissimo impegno E sono contenuti Che non vedrà nessuno A me quello Mi dispiace tantissimo Capito? A me quello dispiace Che poi regà Quando la gente Dice Ah va Manda il curriculum Blablabla Mannaggia Io non voglio Flexare Perché non voglio Flexare Vi dico le cose Come stanno Regà Ma se io Chiudo YouTube Cioè se io Dovessi smettere Di generare Contenuti Uno mi dispiacerebbe Tantissimo Io mi apro Due Due attività Subito Ve lo dico Cioè Mi apro Due attività Mi apro Vi giuro Mi apro Una panineria Me la apro Ovviamente Non dirò mai Che è mia Perché se no Capirai E mi apro Un centro estetico Lo apro Veronica Cioè questo è quello Che farei Ma perché i soldi Da parte Ce li ho La gente Forse non l'ha Non l'ha capita Sta roba Non l'ha capita Io che devo fa' Cioè io In questo momento Non sto facendo Determinati investimenti Perché quello Che mi piace Fare è questo Ma mi piace Tantissimo Mi piace Tantissimo Grande Sempre i soldi Non ho capito Matteo Mi dispiace Quello che Uno non ho capito Perché probabilmente L'italiano Non ti compete Ma Stavamo parlando Di Chiusura Apertura Stavamo parlando Il tema era questo Non sono io Che Sto Sto rispondendo Alle persone Che mi dicono Manda il curriculum Eccetera eccetera Poi tu entri in live E E Mi vieni a dire Che io parlo di soldi Era per parlare Era per parlare No Giorgio Ma non è detto Che io chiuda Però se questa cosa Regà Gio Fidati Che se faccio OnlyFans E io Ah Vi dico una cosa Vi dico una cosa Tante persone Mi Mi Credono Un coionotto Ho detto Guardate mi sono fatto Lo scooter La gente Ma dove vai Con la moto La gente Ancora pensa Che io Non entro dentro Le macchine sportive Ma perché sono rimasti A tanti anni fa Io vi posso garantire Scusatemi mamma e papà Che state Vedendovi Il video Ma se dovessero vedere La mia parte intima Dovrebbe Io penso che La gente Penso che impazzirebbe Ma mica per cattiveria Mica per cattiveria È un dato di fatto È un dato di fatto Cioè come uso La mia bacchetta La mia bacchetta Eccetera Eccetera Sarebbe Un po' Un po' Così Vi dico un po' Così Ma E non mi sto E non mi sto E non mi sto E non mi sto Ma è pure Per farsi Due risate Però aspettate Che avete ragione Esatto Cromo Io spero Che questa clip Venga messa Con questo Però Ipoteticamente Devo farlo prima Però questa è un'enoria Un po' Un po' Un po' Così Risponda Risponda Bavido Clip rettigliani L'anima dell'imortacci Tua Ha ha